Salve a tutti gentili spettatori, benvenuti, ben ritrovati a questo settimo appuntamento della seconda stagione di Polis, il primo piano sulla politica a cura di come Don Chisciotte. Il governo Meloni ha compiuto un anno, anche noi con lui, anche se noi siamo partiti un po' prima, fin dal giorno delle elezioni, però insomma dedicheremo questa puntata anche a una sintesi di quello che è stato quest'anno di governo, prima però ovviamente la carrellata di notizie. Io sono Massimo Antonino Cascune e questa è la nostra sigla. Allora iniziamo la carrellata delle notizie principali della settimana con i dati allarmanti presentati dall'Eurostat. Oltre il 63% delle famiglie italiane fatica ad arrivare a fine mese, quasi il 20% in più rispetto alla media europea che si attesta al 45,5%. Peggio di noi tra le grandi nazioni, tra le nazioni principali dell'Europa, soltanto la Grecia, che sappiamo vivere una condizione di perenne crisi economica, è Grecia che si attesta al 90% addirittura, o paesi minori come la Bulgaria che supera di poco l'80%. Comunque l'Italia è nella situazione peggiore tra le grandi nazioni europee, quindi sopra Spagna, Francia e Germania. Questa crisi economica senza fine ovviamente non troverà soluzioni nella prossima legge di bilancio che è stata nuovamente oggetto di modifiche in questi giorni da parte del Consiglio dei Ministri, come vedremo poi nel corso della puntata andando a individuare le modifiche principali da analizzare. Tra le altre notizie importanti è stata ufficializzata la volontà del governo di ricorrere in Cassazione contro i provvedimenti del Tribunale di Catania e infatti proprio in questi giorni l'Avvocatura dello Stato ha depositato i distinti ricorsi presso la Corte. Questa come sapete poi, come dicevamo anche all'inizio di puntata, è stata una settimana di festeggiamenti per l'esecutivo che ha compiuto il suo primo anno alla guida del Paese e insieme ai miei ospiti tireremo un po' le somme di quanto è stato e di quanto anche noi abbiamo detto riguardo al lavoro portato avanti da Giorgia Meloni e i suoi ministri. Ovviamente lo faremo a modo nostro con le direttrici che abbiamo individuato nel corso di quest'anno. Chiudiamo infine con alcuni aggiornamenti sulle elezioni che si sono tenute in questi giorni in varie parti d'Italia. Per quanto riguarda le elezioni provinciali in Alto Adige, il partito autonomista che da anni governa si è confermato con la maggioranza di voti, il 34,5% delle preferenze, quindi primo partito, ma non è riuscito a ottenere la maggioranza nel Consiglio e quindi sarà difficile a questo punto formare una giunta. Dietro di lui altri partiti a maggioranza politica austriaca, mentre è da rilevare comunque l'entrata in gamba tesa di ben due liste Novax. Una è quella Vita che noi conosciamo e un'altra invece è quella dell'ex comandante degli Schützen, anch'esso presentatosi con una lista indipendentista e Novax. Per quanto riguarda invece le elezioni provinciali in Trentino, si è stata la conferma di Fugatti con il centrodestra che è andato oltre il 50% dei voti, un testa a testa tra Lega e Fratelli d'Italia, il primo con il 12%, il secondo con il 13%. Il PD partito più votato ma ovviamente in solitaria. Per quanto riguarda le elezioni suppletive a Monza, Adriano Galeani vince e quindi sostituisce Silvio Berlusconi, ovviamente deceduto, quindi per quanto riguarda quello che era il seggio in Senato vacante. Comunali a Foggia invece, elezioni comunali a Foggia, Marida Episcopo, sostenuta da un campo largo PD, 5 Stelle, Italia Viva e Azione, vince ed è il nuovo sindaco di Foggia. A proposito di Italia Viva e Azione, il 19 ottobre Renzi ha ufficializzato la separazione tra le due composizioni partitiche. Queste erano le notizie della settimana. Adesso in nostro servizio. Il governo Meloni compie un anno e noi, che abbiamo seguito da vicino le vicende politiche italiane fin dalle elezioni del settembre 2022, non possiamo esimerci dal tirare le somme. Insediatasi il 23 ottobre con la famosa campanella che draghi le forse nella pubblica cerimonia del passaggio di consegne. La prima premier donna della storia d'Italia portava con sé un mix di speranze e pregiudizi. Speranze innegabili da parte dell'elettorato votante, se si ricorda i numeri di quelle elezioni, che videro Fratelli d'Italia a stravincere sugli altri partiti. Giorgia rappresentava infatti all'epoca colei che si era opposta al partito unico draghista e che aveva strizzato in più di un'occasione l'occhio a coloro che erano stufi delle chiusure e degli abusi sanitari in nome della prevenzione. La vana speranza era infatti un cambio di rotta per l'Italia e per i suoi cittadini. Uno scatto d'orgoglio che solo la destra italiana poteva garantire. Nonostante questa fiducia che molti riponevano in lei però, non vi è dubbio che a distanza di un anno quasi nulla di quanto sperato è davvero accaduto. Definito infatti in più di un'occasione molto più vicino alla visione di Draghi di quanto ci si aspettasse, l'esecutivo Meloni ha in poco tempo confermato tutti i dubbi di coloro che di Miss Aspen non avevano mai avuto particolare fiducia. Squisitamente atlantista e mai veramente vicina alle esigenze della popolazione, Giorgia Meloni ha mantenuto durante il suo mandato di governo una continua propaganda volta a nascondere sotto al tappeto le problematiche reali. In un anno le famiglie italiane sono diventate più povere, il costo della vita è aumentato e nuove emergenze sono state dichiarate, a causa della incapacità di gestire le difficoltà. Col perenne ricorso alla decretazione d'urgenza e l'imposizione di un clima securtario sempre più opprimente, passando per il no al salario minimo, le vittorie scarseggiano. Solo nei rapporti con l'Europa qualcosa di diverso è avvenuto. Giorgia per un anno ha detto no al MES, no alla riforma del patto di stabilità e no alla liberazione delle concessioni balneari. Sarà per questo che veniamo inondati di immigrati? Allora, eccoci tornati in studio, saluto i miei ospiti a cui do il benvenuto, l'avvocato costituzionalista Umberto del Nuce e il professor Luca Lanzalaco. Salve. Buongiorno a tutti. Salve. Allora, professore, parto da lei con una domanda semplice ma molto complicata. Com'è stato questo primo anno al governo di Giorgia Meloni? Sì, fare un bilancio di un governo è sempre cosa complessa e alcuni sconsigliano di farlo per motivi anche metodologici, non politici, ma estrettamente metodologici. Però io vorrei individuare tre schede, chiamiamole. Uno, gli aspetti che mi hanno, diciamo così, convinto. Secondo, gli aspetti che mi hanno lasciato perplesso. Terzo, gli aspetti che considero critici. punto uno, quali aspetti mi sono piaciuti? Quello fondamentale, se non ricordo male l'abbiamo già sottolineato, è che finalmente in Italia si è tornati a parlare di politica. Si è tornati a parlare di politica, poi ognuno ha le sue posizioni, però la posizione del non si parla di politica, perché sono tutti problemi strettamente economici, strettamente tecnici, ci pensa Draghi, ci pensa l'Europa, ecco questa posizione è stata superata, ampiamente superata. Giorgia Meloni, fratelli Italia, l'attuale maggioranza, parla di politica e obbliga soprattutto l'opposizione parla di politica e qui si vede che l'opposizione fa fatica perché affastella delle parole d'ordine senza un disegno comune, scoerente. Fra l'altro anche contraddicendosi. Su alcuni punti pensiamo al reddito di cittadinanza e per il quale il PD non aveva espresso parere negativo, pensiamo al salario minimo. Questo ritorno alla politica, punto due, è avvenuto grazie a un linguaggio diverso. Giorgia Meloni non parla, io l'odio questo termine, però fa parte ormai del linguaggio corrente, non parla in politichese, no, non usa un gergo, non usa giri di parole, non usa frasi fatte, dice esattamente quello che pensa e quello che intende fare. Poi ripeto, si può essere più o meno d'accordo, però non c'è più quella ipocrisia del linguaggio per cui si riesce a dire tutto il contrario di tutto. Ecco, diciamo con una battuta questo, a Giorgia Meloni non si potrebbe mai fare l'opposizione che Lilly Gruber ha fatto invece recentemente a Elish Line quando le ha chiesto, scusi ma lei si rende conto come sta parlando? Ecco, Giorgia Meloni si rende conto perfettamente di cosa sta parlando e soprattutto lo fa capire a noi. Punto terzo, sull'Unione Europea condivido quello che è stato detto nel servizio, nel senso che da un lato abbiamo posizioni appiattite sull'europeismo, ieri nelle comunicazioni alle Camere sulla riunione del Consiglio Europeo oggi e domani Giorgia Meloni ha sposato completamente la doppia transizione, quella digitale e quella green ecologica e sappiamo dietro queste due transizioni quali interessi economici si nascondono. Però ha detto anche contemporaneamente altre due cose molto importanti nella replica agli interventi, una replica molto bella, devo dire la verità, e ha detto due cose importanti. Primo, che lei si opporrà al passaggio al voto a maggioranza qualificata, quindi sosterrà la validità del voto all'unanimità. Secondo punto, ha detto chiaramente, molto chiaramente, che non si può pensare di allargare l'Unione Europea e contemporaneamente lasciare che l'Europa intervenga capillarmente in ogni aspetto della nostra vita, della nostra esistenza sociale ed economica. Se ricordo bene le parole che lei ha detto, l'Europa si occupa di minuzie e non è in grado di un disegno strategico, per esempio sui problemi come l'immigrazione. relazioni. Ecco, queste sono le cose che mi hanno convinto del governo Meloni. Cosa mi ha lasciato perplesso? Ecco, vorrei dire che qua vi ha subito un equivoco. Non sono qua a dire che il governo Meloni ha sbagliato o comunque non mi ha convinto perché ha fatto politiche di destra, perché è ovvio, si è presentato alle elezioni su una piattaforma di destra. Quindi l'obiezione del PD e del Movimento 5 Stelle che il governo Meloni fa politiche di destra è infondata. quindi cercherò di mettermi invece dal punto di vista di destra, di una destra sociale da cui come sappiamo proviene la Premier. Ecco, il primo punto che mi ha lasciato molto perplesso è la reintroduzione di forme di precariato. Allora il precariato l'ha istituzionalizzato Matteo Renzi col Jobs Act, però Giorgia Meloni ha dato avanti su quella linea. Quindi ha aumentato la precarietà dei lavoratori e questo mi lascia perplesso da parte di una forza politica che ha sostenuto più e più volte che sta dalla parte delle famiglie e delle imprese, ma qua mi sembra che stia un po' più dalla parte delle imprese che delle famiglie. Secondo punto, il reddito di cittadinanza, certo il reddito di cittadinanza ha lasciato, così come è stato progettato, ha lasciato ampio spazio a truffe. Ricordiamo nel novembre 2021 ben 6.000 rumeni avevano ottenuto il reddito, senza aver mai messo piedi in Italia, avevano ottenuto il reddito di cittadinanza per un costo totale per gli italiani di 16 milioni di euro. Quindi è vero, ha consentito truffe, però l'intervento avrebbe dovuto essere non quello di eliminarlo, ma casomai di rendere i controlli più stringenti. Anche perché notate che come ha legittimato l'eliminazione o comunque la riduzione drastica del reddito di cittadinanza su motivazioni puramente, come anche qui uso un termine che non amo, però ormai è nel dibattito, puramente ideologiche. È giusto che tu abbia un reddito non facendo nulla? Vai a cercarti lavoro come se la disoccupazione fosse colpa di chi non vuole lavorare e non invece della mancanza di lavoro. Quindi una misura draconiana drastica sul reddito di cittadinanza che anche qui va a colpire ceti popolari che sembrava la destra sociale volesse invece proteggere. Terzo punto, anche qui taglia le spese sociali e proprio ieri nel dibattito alla Camera, non quello al Senato, è saltato fuori il problema di tagli significativi per l'assistenza ai disabili. Ultimo punto che è stato toccato nell'ottimo servizio introduttivo, la posizione, ho toccato non solo, sono state anche immagini significative, la posizione sull'Ucraina. Ieri Giorgia Meloni ha detto che lei sta andando a Bruxelles per sostenere, mettendosi anche contro alcuni esponenti del Consiglio, non Consiglio dei Ministri, Consiglio europeo, un aumento degli aiuti all'Ucraina. Ecco, mi sfugge che rapporto ci sia fra fornire aiuti economici, militari all'Ucraina e l'interesse nazionale, che è il faro per Giorgia Meloni. Non ho capito, proprio mi sfugge. Non riesco, limite mio, però io non vedo nessuna relazione fra questo. Penso che anche qui la posizione, l'appoggio all'Ucraina faccia parte di un appiattimento sulla linea atlantista e una conferma del radicale anticomunismo, perché dall'altra parte dell'Ucraina c'è la Russia, e del radicale anticomunismo che ha sempre caratterizzato legittimamente, intendo dire, la destra italiana. Ci vedo poco l'interesse degli italiani. Criticità, cioè punti dove bisogna stare attenti, monitorare. Allora, primo, l'abbiamo già detto varie volte, ma dobbiamo confermarlo anche alla luce di recenti eventi non strettamente politici, diciamo familiari, ma con risvolti palesemente politici, e se l'opposizione esterna alla maggioranza è flebile, è parolaia, quella invece interna alla maggioranza è piuttosto robusta e agguerrita. E allora qua faccio una riflessione a piedi pagina. Cioè il PD dovrebbe stare attento a una cosa, cioè che attaccare costantemente Giorgia Meloni in particolare può spianare la strada a Salvini, a meno che il PD non pensi di vincere le prossime elezioni, poi ognuno si illude di... ma siccome è molto probabile che la destra vinca le europee e non solo quelle. Ecco, allora, all'interno della coalizione di destra, io, questo è un parere mio, considero molto più pericoloso Salvini di Giorgia Meloni. Quindi il PD dovrebbe stare attento a giocare strategicamente nelle contraddizioni della maggioranza invece di attaccare direttamente la Premier. Secondo punto critico è questo fatto di lasciare in sospeso troppe questioni. Ormai i dossier, come vengono chiamati, non affrontati fino in fondo, stanno diventando veramente numerosi e prima o poi i nodi arrivano al pettine. Cioè cosa intende fare su tutta una serie di questioni Giorgia Meloni? Metodo sequenziale, graduale, a volte può essere più prudente. Quindi questo lasciare troppe questioni aperte, a mio parere. Terzo punto critico, una criticità che si è confermata ieri, dopo vi do due numerelli per farvi capire cosa intendo dire, c'è un appiattimento di Giorgia Meloni sulle questioni internazionali e una trascuratezza, direi quasi, sulle questioni nazionali. Cioè sembra che l'arena internazionale sia quasi l'unica arena. Vi do questo dato. Ieri Giorgia Meloni quando ha fatto, è stata una relazione relativamente breve, ho monitorato, sono andato a vedere i minuti. Allora, la relazione al Senato durata è 37 minuti. Di questi 37 minuti, 18, secondo più secondo meno, comunque 18 minuti sono stati dedicati alla questione medio orientale, squisitamente internazionale. Quindi 18 minuti, 10 minuti alla questione immigrazione ma mai vista dal punto di vista domestico, interno, ma anche qui vista all'interno dell'arena europea. E solo 9 minuti a tutte le questioni nazionali. Questo indica un interesse, a mio parere, esorbitante. Io ho l'impressione che la Premier stia più all'estero che in Italia. Ultimo punto, poi mi taccio, è una criticità, non è una critica, è una criticità. Sono due cose diverse. La Premier è stata costretta, il governo è stato costretto a fare un bagno nella realtà. È noto, io sono un politologo ed è normale che in politica i governi per vincere le elezioni facciano delle promesse che poi fanno fatica a mantenere. Ora, qua le promesse non mantenute iniziano ad essere un po' numerose e questo potrebbe erodere il consenso dell'attuale governo. Quindi mi domando fino a quando proseguirà questo bagno nella realtà e a che punto Giorgia Meloni si fermerà e non si piegherà totalmente ai vincoli nazionali, soprattutto internazionali, a cui deve sottostare sull'arena internazionale. Professore, grazie mille per questa panoramica che ha fatto, che ovviamente ha dato una serie di spunti di riflessione importanti. Tra l'altro lei ha detto, i nodi vengono al pettine, che è stato proprio il titolo della prima puntata di questa seconda stagione di Polis insieme, perché sappiamo che ci sono tanti temi che Giorgia l'anno scorso non ha voluto trattare, ha voluto rimandare e che a quanto pare continua a fare, però chiaramente il cerchio si stringe sempre di più. Umberto, chiedo anche a te un'opinione rispetto a quest'anno di governo di Giorgia Meloni, però prima voglio farti vedere questo contenuto che indica quello che è il gradimento degli italiani dopo questo primo anno di governo. Un gradimento che insomma è al 36% per quanto riguarda la positività, mentre ben il 55% secondo questi dati giudica negativamente il governo Meloni. Dati che però, a quanto sembra, non rammentano che ben il 36% della popolazione sia stenuta nel settembre 2022, quindi probabilmente qualsiasi sarebbe stato l'attuale Premier, l'attuale Premier il risultato difficilmente sarebbe cambiato. Quindi ti chiedo se possiamo individuare questi dati come veritieri, soprattutto rispetto alla parte negativa, e poi in generale anche a te un bilancio di questo primo anno del governo anche in base agli spunti di riflessione del professore. Ma questi dati possono essere veritieri, secondo me non riflettono esattamente i valori elettorali, proprio perché probabilmente gran parte di quel 55% che valuta negativamente il governo Meloni fa parte di quella metà d'Italia che non vota. Quindi credo che ci sia uno squilibrio fra una valutazione netta sul governo e poi quelli che sono i risultati elettorali, tanto che in realtà pare che comunque il partito Fratelli d'Italia sia il primo partito in Italia, quindi c'è uno squilibrio da questo punto di vista. Per quanto riguarda la valutazione del governo Meloni, io mi sito tra quel 55% negativi, sono d'accordo con il professore che non bisogna fare una valutazione, diciamo, estremamente... cioè il giudizio negativo non riflette il fatto che la Meloni abbia fatto politiche di destra perché, voglio dire, fa parte del mandato che ha ricevuto e dell'area politica che rappresenta, anche se a livello personale non mi trovo d'accordo con questa impostazione di base, ma il mio giudizio negativo per due ordini principali di ragione. Uno è l'eccessiva, diciamo, timidezza internazionale. Voglio dire, questo l'avevamo detto, se non sbaglio, proprio le prime puntate, o forse proprio all'inizio, cioè il fatto che, come tutti i governi, si sia presentato con un programma molto ambizioso, ma già appunto all'inizio della nostra avventura con Pollis avevamo predetto che in realtà sicuramente la situazione internazionale sarebbe stata così tesa, o comunque che avrebbe avuto dei vincoli esterni così forti che in realtà il suo ambito di manovra da un punto di vista geopolitico e macroeconomico sarebbe stato molto ridotto e quindi probabilmente poi il governo avrebbe dovuto fare spalle larghe sul fronte interno e quindi sottolineare la propria anima politica nelle politiche interne perché in campo europeo e internazionale avrebbe avuto un ambito di manovra molto ristretto. E così in effetti è stato. Diciamo, gran parte delle posizioni che aveva Fratelli d'Italia, Rameloni, in ambito internazionale sono state ridimensionate. Anche per esempio tutta la sua politica rigida sull'immigrazione non è stata, cioè ha dovuto subire un bagno di realtà imposto dell'Europa. E non mi sono piaciute le posizioni appetite diciamo sull'Ucraina, in generale filo atlantista. E questo anche contro gli interessi nazionali, in un momento di grossa crisi economica e a livello interno europeo diciamo destinare questi miliardi e miliardi di euro per armamenti, per ulteriori morti, per ulteriore proseguo della guerra appare veramente insensato ed emerge comunque anche in questo senso un orientamento forte di destra. Per quanto riguarda però anche il lato interno abbiamo visto in questo anno delle norme assolutamente irricevibili, scritte male e indeterminate sotto vari aspetti. Oppure che aumentano un certo tipo di controllo sui cittadini. Le vere due emergenze interne, l'alluvione e l'infrazione, le maggiori che in questo momento individuo, ma ce ne sono state sicuramente anche altre, però hanno visto una risposta secondo me insufficiente sia l'alluvione, ha visto un governo diciamo, ha visto delle visure secondo me insufficienti e ci sono popolazioni e paesini interi che ancora vivono in condizioni di precarietà e anche l'inflazione secondo me ha avuto una risposta timida perché il governo, né il governo né l'Europa sono andate a incidere laddove forse bisognava intervenire, cioè dal lato dell'offerta. Nel momento in cui questa inflazione è trainata dall'aumento di costi energetici fondamentalmente, è lì che il governo e l'Europa doveva intervenire e aveva gli strumenti per farlo, mentre a quanto sembra si è deciso di intervenire sul lato della domanda, quindi diciamo così cercando di ridurre la domanda aggregata sulla scia dell'austerità europea e del mandato che era stato al governo Monti e poi proseguito. In questo senso forse si può anche leggere le politiche europee, cioè da un certo punto di vista vediamo che l'Europa destina miliardi di euro a sostenere guerre e distruzioni in giro per il mondo, quando quei miliardi probabilmente potrebbero servire a sollevare il terrore di vita di numerose famiglie che in effetti lottano con l'inflazione, lottano con il calo del potere d'acquisto e in generale del valore dei salari, però non si è scelto di non farlo e a questo punto questa scelta assume una valenza anche politica. Quindi diciamo per tutti questi motivi il mio giudizio è molto negativo, mi sembra che il governo abbia proceduto col pilota automatico in ambito internazionale appiattendosi alle direttive innanzitutto americane e in generale europee e nell'ambito interno abbia avuto risposte insufficienti e timide. L'aggettivo con cui definirei questo governo è non nelle stannazioni ma nella pratica un'eccessiva anche timidezza forse. Beh certo, sono sicuramente valutazioni su cui non si può discordare, è chiaro che c'erano forse in quella maggioranza di elettori tanti che speravano davvero in questo cambio di marcia come dicevamo anche nel servizio di puntata, però è vero anche che noi sapevamo che insomma difficilmente Giorgia Meloni poteva dar seguito a tutte quelle promesse anche di insomma il rinnovo di un certo sovranismo in vari aspetti della vita degli italiani che chiaramente nei momenti in cui si è all'interno di consensi internazionali come l'Unione Europea e come la Nato chiaramente non può esistere soprattutto nei momenti in cui si è ceduto sovranità a larghe fette. Per quanto riguarda la crisi economica, il problema fiscale, l'aumento del costo della vita che entrambi avete accennato, voglio farvi vedere il secondo contenuto che abbiamo preparato che sono una serie di dati di quest'anno di successi ovviamente non è un contenuto nostro, l'abbiamo trovato su internet ma insomma è abbastanza indicativo di come la vita dal punto di vista economico si è diventata molto più complicata in quest'ultimo anno e venendo poi alla concretezza della legge di bilancio del provvedimento di cui parliamo da settimane sarà molto difficile ovviamente far fronte a tutto ciò nonostante Giorgia Meloni e tutto l'esecutivo abbiano fatto una serie di promesse come il taglio del cuneo fiscale oppure una serie di incentivi a sostegno delle fasce più deboli della popolazione e dicevamo all'inizio che proprio in questi giorni la legge di bilancio è stata nuovamente modificata e approvata dal Consiglio dei Ministri. Allora professore le chiedo una panoramica su quelle che sono le principali novità che lei ha individuato in questo nuovo testo che poi ovviamente dovrà andare alle camere per la discussione. Sì, il nuovo testo è molto articolato, contiene una cinquantina di interventi puntuali, specifici, capillari in gran parte è di tutta la verità, io non sono un giurista però è illegibile perché si compone di una serie di richiami, di rimandi ad altri testi normativi per cui uno o ha presente tutta la storia di un certo provvedimento fatica a capire di che cosa si stia parlando. Diciamo che l'illegibilità della legge sta diventando non solo intollerabile ma forse uno strumento di governo. Principali passaggi, allora vediamo dal punto di vista economico e poi invece un passaggio che riguarda non l'economia in senso stretto ma direi più la società, la politica, i diritti dei cittadini. Dal punto di vista economico abbiamo un contrariamente alle promesse elettorali, ecco qua c'è una palese contraddizione, una contrazione sulle pensioni, quindi i prepensionamenti diventano molto più onerosi per i lavoratori ovviamente, per le fasce femminili. Qualcuno ha detto, dimostrando anche la cosa, che di fatto si è tornati alla fornero, quindi questo significa un danno per i lavoratori e una sconfitta per la Lega. Ci sono poi una serie di tagli alle spese sociali, in particolare ieri nel dibattito alla Camera dei Deputati, non al Senato. Ci sono stati due atteggiamenti diversi ieri. Al Senato c'è stato un atteggiamento anche dell'opposizione quasi ossequioso nei confronti Giorgia Meloni, alla Camera dei Deputati, come ha notato anche la Premier, c'è stato molto ma molto più nervosismo, molta più vivacità. Ieri è stata in un intervento, è stato evidenziato come si sia giunti addirittura dei tagli sulle spese per l'assistenza ai disabili. Ci sono poi qua, ma vicino al punto, alcune misure di contrasto all'evasione fiscale, il raddoppio delle imposte per chi ha capitali o redditi all'estero e poi un inquietante articolo, se mi date un minuto, leggo uno stralcio perché è molto molto istruttivo. Dunque è l'articolo 23,13, dopo una serie di richiami al decreto Presidente della Repubblica, il punto 1 dice, leggo, cito fra virgolette come si dice, prima di procedere al pignoramento dei conti correnti rinvenienti dalla consultazione dell'archivio dei rapporti finanziari, parlando quindi di cittadini che sono in mora e hanno un debito nei confronti dell'agenzia delle entrate, chiuso la parentesi, l'agente della riscossione può in fase stragiudiziale accedere mediante collegamento telematico diretto alle informazioni relative alla disponibilità giacenti sui predetti conti correnti e successivamente si dice che è pure possibile la possibilità di pignoramento. Quindi siamo ad una violazione plateale ormai dei diritti più elementari, più banali, cioè in fase stragiudiziale, notate, poi magari mi corregge l'avvocato Nenoge, però stragiudiziale non vuol dire, ma che bello, non sono in giudizio, no, stragiudiziale vuol dire che mancano tutta una serie di tutele, quindi è una discrezionalità, una discrezionalità maggiore della fase giudiziale, no? Quindi c'è una possibilità, infatti l'agente della riscossione può, è a sua discrezionalità. Nel punto 3 sempre del comma 13 articolo 23 si dice che le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa, quindi sia nella fase di implementazione, per l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 eccetera eccetera eccetera, verranno sentite l'associazione bancaria italiana, le poste italiane, l'associazione italiana dei prestatori servizi di pagamento, nonché grazie, il garante per la protezione dei dati personali. Quindi ecco, queste sono, non vorrei che fosse prodromico a una violazione poi sistematica della privacy dei cittadini. No, è la ministra di Oberton a cui ci ha abituato, ci ha abituato nel senso che ce l'ha spiegata molto bene l'avvocato Fusillo, per cui si parte da qualcosa che tutto sommato dice, vabbè, no, questi hanno un vaso, sono in debito, non pagano, quindi in fondo si può anche accedere ai conti, no? C'è questa forma di legittimazione fittizia, fasulla, chiaro. E poi via via gli spostamenti diventano, possono diventare anche più invasivi. D'altronde in Italia noi abbiamo avuto l'esperienza del governo Amato di un prelievo forzoso dalla sera a mattina su tutti i conti correnti. Quindi è un provvedimento grave, un provvedimento lesivo dei diritti di cittadini, è un provvedimento dei confronti, nel quale spero di sbagliarmi, dico la verità, però l'opposizione non ha detto nulla. Cioè Elish Line si preoccupa molto dei diritti degli omosessuali che sono una minoranza da tutelare, ma sono una minoranza. Qua invece c'è una legittimazione, una violazione che può diventare sistematica dei diritti di tutti i cittadini, ma ripeto, sembra che l'opposizione non abbia nulla da dire. Ripeto, spero veramente di sbagliarmi e che o da parte del PD o dei Cinque Stelle, il Presidente è un avvocato, quindi forse sarà reso conto di questa mostruosità, ecco, venga detto o sia stato detto qualcosa. Anche perché gli omosessuali, ma in generale tutta la comunità LGBT, penso tutti quanti abbiano conti correnti, quindi alla fine... Ah beh certo, sì, non era contraposto. Non era contraposto. E poi ecco, no, allora seguo questa traccia che è interessante, c'è anche un'altra differenza, questa è proprio, fa parte del, come direbbe un giurista, della dottrina della scienza politica, cioè i gruppi piccoli e relativamente concentrati, come la comunità LGBT, fa molta meno fatica a organizzarsi, a organizzare l'azione collettiva, mentre invece gli interessi diffusi trovano molti molti più ostacoli a organizzare l'azione collettiva, quindi confermo ecco quello che è stato detto. A questo punto chiediamo il parere giuridico a Umberto. Che cosa ne pensi di questo provvedimento, questa possibilità del fisco di accedere ai conti degli italiani? A netto del fatto che, se non sbaglio, poi le specifiche su come questo verrà fatto devono ancora, diciamo, uscire, secondo me quello che in effetti è più preoccupante è il significato anche politico di questa scelta, nel senso che, voglio dire, che si possa fare un pegnonamento su qualcuno dimoroso, voglio dire, questo si può già fare, però quello che cambia in effetti è questa accelerazione sui tempi, per cui si dà la possibilità all'agenzia delle entrate, e poi bisogna capire poi chi, all'interno delle agenzie delle entrate, e in che modalità, cioè se è un funzionario qualunque che può comunque accedere, o se necessiterà poi di tutta una serie di approvazioni, questo praticamente non è ancora chiaro, però in generale il fatto che l'agenzia delle entrate in fase, appunto, come è stato detto, stragiudiziale, quindi senza l'intervento di un giudice, quindi senza una prima verifica di legittimità giuridica e sostanziale, da parte del potere giudiziario, ma appunto che possa entrare nei controi correnti e quindi verificarli, e in effetti, diciamo, spalanca così l'orizzonte su un futuro in cui questo tipo di lesioni della privacy, potrebbero diventare tollerate e in generale in un'epoca in cui la tecnologia anche consentirà allo Stato o al Governo di entrare senza una verifica giudiziaria negli aspetti più intimi delle nostre vite, questo è l'aspetto forse più preoccupante, perché diciamo ad oggi lo Stato, l'agenzia delle entrate lo può fare immediatamente, cioè all'interno di una procedura, e comunque si deve rivolgere prima agli istituti e chiedere agli istituti se sui conti correnti vi è della disponibilità forse al dettare, quindi si può saltare questo passaggio dando subito all'agenzia delle entrate il potere di accedere direttamente ai dati senza dover chiederli agli istituti, ecco, quindi di fatto è un'accelerazione dei tempi, però appunto, come dicevamo, quello che è inquietante è un po' insieme anche al discorso che facevamo una volta scorsa sul controllo, ecco, e diciamo questo aumentare degli ambiti in cui è possibile un controllo diretto di aspetti anche intimi della vita dei cittadini. Beh, certo che poi si lega perfettamente anche alla puntata precedente dove abbiamo visto come la questione del controllo e della violazione della nostra privacy ormai sta diventando una costante addirittura poi nei luoghi pubblici, proprio come abbiamo visto, e adesso anche nei nostri conti correnti. Io vi faccio, per esempio, questo su me, quello che preoccupa più che altro è se un domani, diciamo giustificato sotto varie forme di emergenza, a quel punto il governo potrebbe anche dirti, cioè non solo accedere ai conti, ma anche gestire i fondi, cioè dire, non so, non puoi spendere questo conto, i fondi che su questo conto o li puoi spendere in una certa misura o con certe limitazioni, cioè quello che è preoccupante è che questo potrebbe aprire, diciamo, una finestra su possibilità ulteriori che ora senza andare in forme, diciamo, paranoiche di maniera di persecuzione, però diciamo che purtroppo abbiamo visto che certe, diciamo, profezie, poi a partire dal 1984 in avanti hanno una inquietante tendenza ad avverarsi e quindi, diciamo, preoccuparsi prima di avere il problema in casa, ecco, forse è un bene, questo è l'aspetto più problematico, secondo me, di questa modifica. Beh, certo, anche perché poi forse il prossimo passo potrebbero essere i cosiddetti crediti carbonio, quindi se tu magari hai viaggiato troppo durante l'anno, hai emesso troppo a CO2, magari il quarto o quinto biglietto aereo lo Stato ti impedirà di acquistarlo proprio dal conto corrente stesso. Certo, è giusto prevenire piuttosto che curare, almeno per quanto riguarda questi casi. Signori, vi ringrazio per questa splendida puntata, per questo festeggiamento tutti insieme del primo anno di governo di Giorgia Meloni e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Va bene. Buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.